Eccoci ora nella sala d'ascolto di Mr. A.J. Van den Woo, dove lo incontreremo e ci racconterà qualcosa circa le testine. Intanto diamo un primo sguardo alla sala, dove abbiamo molta storia dell'alta fedeltà, a partire da questi splendidi fonografi, registratori a bobine, una parte della collezione di dischi e di master tape realizzati in diretta al Concertgebou di Amsterdam. Queste sono le macchine Telefunken che vengono usate spesso per le demo o anche semplicemente per il piacere di ascoltare le registrazioni. Qui abbiamo vari progetti molto vecchi di anni fa. Un giro di ischitones, reference, su una colibri, che è quella che ascoltiamo anche in background. E ora finalmente andiamo a conoscere Mr. Van den Woo. Buongiorno. 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 Buongiorno per visitare noi e per aver un tour in il nostro canale. Buongiorno. Buongiorno. E ho spero di presentare un'interessante informazione sui nostre company, sui nostri prodotti e la forma che noi lavoriamo. Buongiorno per av ? Buongiorno che è un'ottimo per essere suoi. Siamo spero di avere una presentazione di nostre prodotti in Italia in in PIA in i prossimi anni. Sono molto orgoglioso di questa manutenzione di come abbiamo trovato i altri e di come abbiamo iniziato a lavorare. Fuorissiamo partecipare principalmente sull'automazione musicale, sull'automazione tecnologica. Non sulla tecnologia. A second di manutenzione musicale. La musica è molto essenziale in nostra compagnia, perciò c'è molta mastertapia, c'è molta ricorda, molta involuzione in la musica, perché credo che questo è il più essenziale parte. E noi cerchiamo di fare la migliore conversione tra la musica e la tecnologia. Perciò il slogan nostra compagnia è il linko tra tecnologia e l'emozione. Especialmente in tempi dove politica è difficile, il clima è difficile, la musica può essere un grande rilievo, un grande rilievo, per rilassare il tuo spirito e per sentire una persona libera. La musica è un altro modo di rilassare. La musica piace la musica, ma sono perdita in la tecnologia. Perciò vogliamo tornare l'emozione valia della musica in la living room, per divertire il tuo vita e perciò che ci sono felici momenti per il giorno, dove puoi perdere i tuoi problemi e diventare ancora interessati nella cultura. Visto che ci accingiamo a parlare di musica riprodotta, il Mr Van Den Ull ha piacere di presentarci un po' la storia della riproduzione musicale, quindi partire dalle vere origini, facendoci ascoltare un fonografo edison standard, originale, completamente restaurato. Questo è un semplice di 1903, da un'istrumento, 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 un'istrumento in quel momento, utilizzato da molti persone, perché era il loro solo source per fare musica. Un'istrumento, un'istrumento riprodotta, un'istrumento riprodotta, dove la modulazione è verticale. Quindi la scotazione del cilindro è anche verticale, c'è un po' diamone dentro, e il po' diamone rinca, 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 e il po' diamone rinca. Alla che mette un po' diamone rinca, la scotazione del cilindro, e qui, e che è in questo punto, che si rinca, e il po' diamone rinca, e rinca il po' diamone rinca, Il corso è molto essenziale, senza un corso, non c'è musica. Il corso è un corso, non c'è musica, non c'è musica, non c'è musica. Il corso è un corso, non c'è musica, non c'è musica, non c'è musica, non c'è musica. Il corso è un corso, non c'è musica, non c'è musica, non c'è musica. Non c'è musica, non c'è musica, non c'è musica, non c'è musica. Non c'è musica, non c'è musica, non c'è musica. Non c'è musica, non c'è musica, non c'è musica. Non c'è musica, non c'è musica. Non c'è musica. le registrazioni sono molto buono perché il stile ha bisogno di cambiamento ma ho un stile che può aiutare circa 200 registrazioni quindi non è un problema sempre la macchina quindi c'è manpower la velocità la velocità il Il peso di 50 gram di peso Il peso di 50 gram di peso La peso di peso di 250 gram di peso E ancora non c'è il peso di la ricerca Mi ha cresciuto con questo tipo di musica, perché mio padre aveva una grande collezione di recordi, ma sempre 78 anni. Quando aveva il lavoro a Philips, aveva la mia madre mi permette di giocare sui recordi. Ma quando aveva pensato di tornare a casa, ho avuto tutto di nuovo. E mi sembrava che non aveva qualcosa di serio. Ma questo è il principio fondamentale di mio audio amore di giocare sui recordi. Questo è arrivato nel 1943-1944. E da quel momento è stato molto attivato in audio, soprattutto grazie a 78 anni, che non è ancora più fermato. E io sono ancora in 78 anni. Quindi, una volta che hai una circola in tua vita, non è mai fuori da quella circola. Questo è uno di queste tipiche esempi. Il buono cosa di questa macchina è che ha una velocità controlla. Quindi, la macchina si può aggiungere fino a un tono livello, quindi potremmo con un violino o una flutte o qualcosa, o quello che aveva, o un clarinet, potremmo con la musica. Questa macchina è uscita anche per musicale educazione. Grazie a la velocità controlla. Due coppia, una per uscita e una per uscita, una per uscita e una per uscita. Questa macchina aveva a giocare con uscita, ma i stiletti che ho qui hanno un po' di stiletto. Ma i stiletti sono un po' di stiletto, e a l'ultimo com' di stiletto, in cui puoi potremmo 200 registrati prima di stiletto di stiletto. Un lungplay stiletto, come puoi dire, made of nitrium carbide, è molto difficile materiale. So far, questo strument. Grazie. Grazie.